Un vasto incendio la scorsa notte è divampato nella zona industriale di Bari in via Fratelli Philips. Il numero civico è il 19, qui si trova l'azienda Beltom, la vedete alle mie spalle, impiegata nel commercio online. Le fiamme hanno completamente distrutto uno dei capannoni affiliati alle aziende, quello di stoccaggio. Lo vedete qui alle mie spalle, il fumo è ancora tanto e sono ancora in corso le operazioni di spegnimento del rogo. Per tutta la notte sono state impiegate 11 squadre dei vigili del fuoco, mentre in mattinata si sono susseguite due autobotti che hanno completato le operazioni. Il capannone di stoccaggio, quello appunto coinvolto nell'incendio, lo vedete è andato completamente distrutto. Sul posto questa mattina è giunto il proprietario dell'azienda che insieme ai vigili del fuoco ha fatto un giro in sicurezza nel capannone per capire effettivamente l'entità dei danni che ha subito la sua azienda. Non si sa ancora se la natura dell'incendio sia dolosa, accertamenti sono ancora in corso, mentre il timore era quello che l'incendio visibile da varie zone della città per tutta la notte si estendesse alle zone limitrofe. Infatti qui nella zona industriale tanti sono i capannoni, lo vedete tanti sono anche gli alberi. Quindi il timore era che il rogo divampasse ulteriormente, ma i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona e sono riusciti a domare le fiamme.